Jane Alexander, memorabile la sua partecipazione all'Isola di Rivombrosa, scusate il francesismo, lei praticamente ha, come si può dire, ha partecipato al GFVIP3, ha avuto anche una storia controversa con un personaggio della casa, adesso è tornata con il suo ex compagno, è stata perdonata, ha confessato alle reti unificate che ha partecipato al GF per soldi, quindi niente, anche io sto cercando di diventare famoso per partecipare al GFVIP3, GFVIP3, è un mio tentativo disperato, il mio autogol, è come il cucchiaio di Totti, capito? E niente, quindi adesso lei si rammarica del fatto che non ha più fatto con passate televisive, un'altra che è un po' sparita dai riflettori, dice quando sono uscito dalla casa ho avuto anche problemi di alcolismo, si è iscritta a Alcolisti Anonimi e quindi ha avuto una vita molto turbolenta, dal quale è finalmente uscita anche con...